Ciao, saluti ragazzi, sono Marchio, oggi siamo qui di nuovo su Tessi perché dobbiamo fare la penultima missione polesse, sì perché ci manca questa, che è una missioncina così, ovvero la città sepolta che sarà Libernia, ovvero elimina i cabal che occupano la città perduta di Libernia ed esplora ciò che non rimane Ok zio, andiamo a livello normale, come sempre ormai Quindi, tra l'altro non ho capito, ma se 20 è il livello massimo, scusate, ma l'esperienza allora che ci fa? Perché lì la barra dell'esperienza sembra che poi vada aumentata tipo a 21 A Cryptarcha sembra interessare molto questa regione di Marte, senti un po' qua Per anni i Cryptarchi hanno atteso di poter superare la zona di interdizione e scoprire cosa resta nella città sepolta Pare che Libernia fosse la culla di meraviglie tecnologiche Sì, sì I cabal non devono distruggerla Sì che poi non ci droppano mai nulla, ma va bene, vediamo un po' se riusciamo a trovare qualche enagramma a sto giro I cabal avrebbero potuto radere al suolo l'intera città, se non l'hanno ancora fatto è perché hanno trovato qualcosa di valore Teniamoli sotto controllo e cerchiamo di capire Va bene Ah è qua che devo andare, ok ci sono arrivato a culo ma ci sono arrivato I Vex I Vex e i cabal Ma che cazzo sta succede Cioè ragazzi lo scontro più epico della storia Il Minotauro contro i cabal Cioè Una cosa epica Io non combatto per nulla Non fate caso a me Mi raccomando Io non ne sito eh Quindi fate un po' come volete Io non ci sono Ma anche qui si stanno a fare la guerra Cioè ovunque ragazzi È ovunque Però io ancora non ho capito dov'è che devo andare Toffro tempo Gui gui Ma che ecco Ma chi è È un colosso con l'armatura speciale E' indubbiamente lui Che però non ci vede tanto Ma ci senti forse Forse la ci senti meglio Aspetta No no Sta tranquillo Ci sento C'è bisogno eh Perfetto C'era qualcuno di qua Volevano sparare a me Comunque stavo a pensare ragazzi Ma quella ragazza Hai prima Ma come faceva? Cioè ci vuole il fucile a pompa Come funziona? Le spingi i cabal Comunque Quelli di mangala Perché mi dai quelli Normali? Perché hai finito i colpi Sempre C'è nemmeno dietro Prima quelli tentacudo Dai manca poco Dai Ok C'è qualcuno qui Ok Ok Mi carica Uh Stava finito i colpi Di gatto In verità L'ho finito E infatti Mi carica Ma la pausa Vuol dire che è carica No Eh là Dove volevi andare Mi carica 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 Vieni Oh mio dio Non voglio morire C'è una qua Mori Ma a me quest'arma pesante c'è E' ottima Sì Va bene Pelle di mangala 1.3 B Ok Quale macchina? Questa? Aspetta Devo ricaricare qua Ma Mumicchione quel trantio ce so Questa I.A. era connessa alla mente bellica di Marte Ah Ah ok E' finito Cosa sta dicendo Va bene C'è tutto russo Va bene Che poi su Marte Rasputin Lui la controlla Ah ok Non riesco ad accedere E' non meno il capo Rasputin ora e ovunque Dobbiamo trovarlo Anche se non lo troviamo Cioè Cioè va tutto bene Ok Ho preso la munizione Comunque ragazzi Spero che questa video vi sia piaciuto Perché è giunto al termine E se così fosse Invito a mettere un mail Vi piace a commentare A condividere E a scrivervi se non l'avete ancora fatto Noi ci vediamo Col prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 Ciao